Consiglio comunale straordinario vigevano sul raddoppio ferroviario, Corsico Piccolini del PD denuncia, il doppio binario tra Mortara e Parona fu finanziato 15 anni fa ma mai realizzato. Giallo San Colombano all'Ambro, un uomo esce da un bed and breakfast con una ferita alla gola, morirà poco dopo, secondo la compagna si è suicidato ma la sua versione non convince. Voghera sarebbe tra i comuni italiani dove si è sbagliato a calcolare l'Atari, la denuncia arriva da Feder Consumatori, secondo cui per garage e cantine i cittadini avrebbero pagato il doppio. Presentato in comune a Pavia il progetto che trasformerà l'aria attorno a San Matteo, una nuova piazza, il parcheggio multipiano e la fermata della S13 diventeranno realtà. Più attenzione ai migranti, il messaggio del Vescovo di Vigevano Gervasone e i sindaci della diocesi riuniti per Sant'Ambrogio. Li consideriamo cittadini di serie B, ha detto, ma dobbiamo chiederci quali sono i loro desideri. Anche quest'anno l'associazione natale tutto l'anno sta raccogliendo doni per i poveri di Pavia. Si possono donare giochi ma anche vestiti, genere alimentari e persino abbonamenti in palestra. Buonasera, benvenuti a Pavia News. Si è tenuto ieri sera a Vigevano un consiglio comunale straordinario interamente dedicato al tema del rischio che non venga effettuato il raddoppio della linea ferroviaria Milano-Mortara, questo seguito di un documento diffuso un paio di settimane fa dalle ferrovie e inviato alla provincia di Pavia. Sentirete tra poco le varie posizioni emerse nel dibattito, ma soprattutto vi anticipo la notizia che è emersa e cioè che quando nel 2002 fu autorizzato e finanziato il raddoppio tra Milano e Albairate fu contemporaneamente autorizzato e finanziato anche il tratto Parona-Mortara di cui poi si persero le tracce e appunto ci si chiede dove siano finiti i soldi e i binari. Il consiglio comunale dà mandato al sindaco affinché al tavolo 1 venga attivato il patto per la Lombardia in merito all'intervento raddoppio Milano-Mortara. Questo documento che il consiglio comunale di Vigevano ha votato all'unanimità. Si chiede un tavolo di confronto tra lo stesso comune, Ministero delle Infrastrutture, Regione ed RFI per l'attuazione del punto del patto per la Lombardia che prevede il completamento del raddoppio della Milano-Mortara che le stesse ferrovie hanno recentemente dichiarato di non avere intenzione di fare in un documento inviato alla provincia di Pavia. RFI e l'assessore regionale Alessandro Sorte avevano dichiarato che il territorio non aveva mai fatto richiesta esplicita per il raddoppio e sul tema c'erano anzi delle divisioni. La risposta dei consiglieri Bonecchi e Corsico è netta, si tratta di affermazioni false e malafide. Lo stesso assessore regionale Sorte fa una serie di dichiarazioni, alcune veramente sconcertanti, con la quale dice che da parte del territorio non c'è mai stata una richiesta esplicita di procedere al raddoppio, dimenticando probabilmente che il suo presidente di Regione Maroni aveva firmato nel 2016 un accordo di programma col presidente del Consiglio che prevedeva questa cosa. RFI lamenta l'assenza di richieste da parte del territorio di raddoppio. Credo che chiunque conosca un minimo questa vicenda, l'ha detto bene il consigliere Bonecchi, o è malafede o non può dire che questo territorio, credo da 50 anni a questa parte, chieda l'esigenza netta di un raddoppio ferroviario. Luca Mazzola del Movimento 5 Stelle fa però notare come lo stesso territorio, comune di Vigevano in primis, non abbia nella storia mai fatto sufficiente pressione perché l'opera venisse realizzata. In questo raddoppio vi sono documenti che attestano le prime discussioni sulla necessità di questo tipo di intervento, addirittura degli anni 30. Quindi stiamo parlando di un problema che ci portiamo dietro come territorio davvero da troppo tempo e non è mai stato affrontato nella maniera corretta. Per il sindaco Sala il problema è un altro. Le ferrovie attraverso il patto per la Lombardia firmato da Renzi e Maroni hanno avuto un mandato direttamente dal governo per completare il raddoppio e ora stanno ignorando un impegno preso dal loro azionista di maggioranza, cioè lo Stato. Anche RFI qui è venuto a mancare il fatto che non riconosce il padrone, che è il governo. Qui il problema però è far capire, capire soprattutto dentro RFI, tra chi governa, come riesce a convincere chi sta a capo della società che deve fare quello che gli dice il governo. Pare questa non essere l'unica manchevolezza di RFI. Corsico Piccolini recupera una storia vecchia ormai di 15 anni e, come si suol dire, passata in cavalleria. Nel 2002 vennero approvati e finanziati insieme sia il raddoppio tra Milano e Albairate che quello tra Mortare e Parona. Mentre il primo tratto è stato realizzato, l'altro è stato abbandonato. Nonostante da allora ci sia a disposizione un finanziamento da 200 milioni di euro mai ufficialmente revocato. Quindi qualcuno mi deve dire dov'è finita la tratta tra Mortara e Parona. Addirittura, mi risulta, in quel pezzo sono state iniziate delle opere mai portate a termine. Mai portate a termine. Sono dei cavalcavia, eccetera. E su questa vicenda, soprattutto sull'ultima parte, cioè questo raddoppio nel tratto tra Mortara e Parona, finanziato, adesso si scopre, ma mai effettivamente realizzato, c'è una novità, cioè che probabilmente ci sarà una interrogazione parlamentare appunto per chiedere conto di questi soldi o se nel frattempo magari si è effettivamente intervenuto qualche cosa che poi ha fatto sfumare l'opera. Vi terremo aggiornati. La cronaca con un fatto che è salito anche alla ribalta nazionale, il mistero di San Colombano all'Ambro, il mistero del bed and breakfast. Un uomo è stato trovato questa mattina sgozzato. La donna che era con lui dice si è suicidato. Ma sarà vero? La macabra scoperta è venuta dopo la chiamata di soccorso, arrivata attorno alle 4 e mezza di notte, quando i carabinieri sono arrivati nel bed and breakfast di via Belfuggito a San Colombano all'Ambro, paese al confine tra le province di Pavia e Milano. Hanno trovato il corpo riverso sul vialetto con un profondo taglio alla gola. Il morto è un uomo di 34 anni, di origini pugliesi. A dare l'allarme è stata la donna che era con lui, una quarantenne originaria di Bari. Con tutta probabilità i due, separato lui e sposata lei, avevano da tempo una relazione e si erano incontrati nel motel per passare del tempo insieme. La donna, sotto shock, ha spiegato poi ai carabinieri di San Donato che il 34enne si sarebbe ucciso in preda ad un raptus, colpendosi alla gola con un coccio di vetro di un vaso spaccato. Una versione che gli inquirenti stanno vagliando scrupolosamente, non escludendo l'ipotesi, che si tratti in realtà di un omicidio, dato che la ferita era forse troppo profonda per essere frutto di un gesto autolesionistico. Stando ad una prima ricostruzione, il 34enne, in magliette e pantaloni, è corso fuori dalla stanza in piena notte, con temperature vicine allo zero, perdendo sangue dal collo. Ha percorso alcuni metri lungo la veranda ed è sceso per la scala che porta al vialetto interno della proprietà, in fondo alla quale si è accasciato. I soccorritori lo hanno trovato ancora vivo, ma agonizzante per la gran quantità di sangue perso. L'uomo è morto poco dopo, nonostante gli sforzi dei medici. I carabinieri hanno interrogato a lungo la donna per cercare di fare piena luce su quanto è accaduto la notte scorsa all'interno del bed and breakfast. La quarantenne è stata poi portata in stato di shock, al pronto soccorso dell'ospedale di Lodi. Al momento non risulta però in stato di fermo. Se ne parla da tempo, adesso c'è il progetto ufficiale, soprattutto ci sono i soldi per cambiare completamente il volto dell'area attorno al Poliglinico San Matteo a Pavia. Un piano di interventi che cambierà completamente il volto del Poliglinico e dell'area circostante grazie alla sinergia tra il San Matteo ed il Comune di Pavia. Innanzitutto nascerà una nuova piazza nei pressi del DEA con attività commerciali, un asilo nido e un nuovo parcheggio multipiano, senza dimenticare l'elisuperficie che permetterà l'atterraggio degli elicotteri in qualsiasi momento del giorno e della notte. Verrà inoltre spostato l'ingresso delle ambulanze in via Taramelli, ripristinando il vecchio punto d'accesso, mentre via Campeggi sarà riservata al solo ingresso pedonale. Il San Matteo cambia volto, cambia soprattutto l'approccio al San Matteo, quindi la prima visibilità del San Matteo cambia volto. Era un obiettivo importante, era un impegno che avevamo e soprattutto era dovuto alla città e al San Matteo di riprendere questa facciata e riqualificare quello che è via Campeggi. Questo piano ci dà la possibilità di far costruire, quindi di avviare le procedure per costruire il parcheggio innanzitutto, ma più che il parcheggio, che sarà un parcheggio multipiano, di fare questa piazza, di prevedere una piazza, degli edifici in cui ci sarà attività commerciale e previsto il mio sogno del cassetto che non è più fuori del cassetto oramai realizzato, si può realizzare che è l'asilo Rido. Oltre a questo la cosa più importante e prima di tutto, perché nel piano prima di tutto faremo questo, è la creazione dell'eli superficie, superficie che come sapete manca a Pavia e che è indispensabile per poter permettere l'accesso delle emergenze, dei politraumi al San Matteo. Questi interventi messi in campo dal Policlinico, ma anche il Comune di Pavia farà la sua parte, migliorando la viabilità della zona grazie ai fondi del bando periferia e del patto per la Lombardia. In che modo? Prima di tutto prevedendo la nuova fermata del passante ferroviario in Viale Brambilla. Un passaggio pedonale sopraelevato consentirà l'arrivo in sicurezza aldeaco con soli 300 metri di distanza da percorrere. Anche la viabilità nel suo complesso muterà in due fasi. Nel 2018 verrà realizzata la nuova strada che collegherà lo svincolo della tangenziale al Cnau con una rotonda da posizionare nei pressi del Cus ed un senso unico in uscita da via Campeggi. La seconda fase, a completamento della prima, è invece la costruzione del ponte della tangenziale, più volte invocato dagli scranni del Consiglio Comunale. Servizio straordinario di controllo del territorio effettuato nella mattinata di ieri a Voghera dal personale del commissariato di polizia insieme alle pattuglie del reparto prevenzione crimine di Milano. È stata in particolare perlustrata all'area di piazza San Bovo e di via Matteotti dove sono state identificate parecchie persone, alcune delle quali aventi a loro carico precedenti penali o di polizia. In un locale pubblico, due individui, un cittadino marocchino e uno tunesino, sono stati trovati in possesso di diversi grammi di cocaina, una ventina di grammi di hashish che hanno cercato in parte di occultare dietro a un apparecchio videopoker. Avevano con sé anche 300 euro in contanti. A termine degli adempiamenti di rito, i due sono stati denunciati a piede libero per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Rimaniamo a Voghera per l'annosa questione della bonifica della Recology. C'è stato un nuovo incontro tra i comuni e i legali che stanno seguendo la vicenda. Ricordiamo che c'è anche un fallimento di mezzo, si procede davvero a piccoli passi. Il comune è pronto a emettere l'ordinanza di bonifica della Recology. È quanto emerso dopo l'ennesimo incontro della giunta di Voghera con i legali che stanno seguendo il caso. Si tratta, come noto, di una capannone di via Lomellina in cui un'azienda fallita riconducibile all'imprenditore milanese 55enne Giovanni Benazzo ha abbandonato oltre 6.000 tonnellate di rifiuti speciali, non pericolosi a quanto si sa. Con la procedura di fallimento in corso, procedere alla bonifica si è rivelato però più complicato del previsto. Nei giorni scorsi uno striscione con la scritta Vende si è apparso sul capannone. Ciò ha suscitato la speranza dei residenti che da tempo non nascondono la loro preoccupazione per le possibili ripercussioni sulla salute derivanti da quella che è ormai diventata a tutti gli effetti una discarica di rifiuti. Se il comune dovesse emettere l'ordinanza, come appare probabile, i soggetti responsabili saranno quindi obbligati a dare corso alla pulizia. Il problema però è sempre lo stesso, capire chi è responsabile giuridicamente del capannone pieno di immondizia dopo che i titolari della ditta hanno dichiarato fallimento. La provincia? La regione? Il comune? O forse i proprietari che avevano affittato l'immobile e che, pur non centrando nulla con l'attività svolta dall'arecologi, ora potrebbero essere obbligati a sborsare quasi un milione di euro per rimettere tutto a posto. In comune hanno a più riprese sottolineato che c'è la massima attenzione al caso. Era sicuramente bonificata a spese del comune la maxi di scariche abusiva che invece è stata trovata in aperta campagna a Pieve Albignola, non lontano dalla strada per la frazione Bombardone. Qui qualcuno ha buttato lì una grande quantità di rifiuti e ora soldi pubblici dovranno occuparsene. Una maxi di scariche a cielo aperto in piena campagna. C'è di tutto. Chi più ne ha, più ne metta. Dimostrazione che l'inciviltà non ha davvero confini. Un'inciviltà che ha tirato le ire dell'amministrazione comunale di Pieve Albignola, che si trova costretta, nonostante il territorio sia di competenza della provincia di Pavia, ad intervenire per portare via, almeno in parte, ciò che è stato abbandonato. Sparsi per quasi un 200 metri lineare in un boschetto c'è davvero di tutto. Da elettrodomestici in disuso a giochi per bambini rotti, da mobiglio usurato a bidoni e fusti con chissà cosa dentro. Qua e là si notano anche lastre di amianto e contenitori di solventi e vernici. Sostanze pericolosissime se percolano nel terreno e finiscono nel campo limitrofo adibito a risaia. La discarica sorge al lato della provinciale che collega la frazione Cascinotto-Mensa a Bombardone, appena si scende dal cavalcavia dell'autostrada Milano-Serravalle. Sul piede di guerra gli amministratori dei comuni che si spartiscono il territorio, in quanto più di una volta sono dovuti intervenire per bonificare almeno parzialmente l'area, nonostante le operazioni sarebbero a carico della provincia di Pavia. Ente che, secondo gli amministratori, potrebbe almeno posizionare un guardrail che limiti l'accesso alla discarica abusiva, proprio per evitare che altri incividi vadano a gettare ulteriori rifiuti ingombranti. Sta di fatto che ancora una volta la campagna è oggetto di scellerati che non conoscono davvero cosa significa rispettare la natura, ed il vivere comune. Montiamo pagina, oggi è Sant'Ambrogio, patrono della diocesi di Vigevano. È tradizione che i sindaci dei comuni appartenenti alla diocesi si ritrovino proprio a Vigevano per un momento di confronto con il Vescovo Gervasoni. Monsignor Gervasoni ha scelto per quest'anno di parlare di immigrazione. Si è concentrato sul tema dell'immigrazione il discorso del Vescovo di Vigevano, Maurizio Gervasoni, ai sindaci della diocesi per la festa dedicata al patrono Sant'Ambrogio. I migranti, sostiene il Vescovo, sono considerati cittadini di serie B, eppure si chiedono loro i doveri di tutti gli altri. Per Monsignor Gervasoni occorre chiedersi cosa vogliono i migranti. Gli immigrati sono accolti se sono lavoratori e come tali vengono trattati. In prima battuta non sono cittadini che vivono, ma sono prestatori d'opera che, quando non servono più, tornano da dove sono venuti. Pensiamo gli immigrati come se fossero anonimi e devono pensare quello che vogliamo noi. Ma non è mica vero, loro pensano come vogliono loro. Ma quello che pensano loro noi non lo sappiamo. La questione migratoria è stata affrontata anche dal prefetto Visconti, che ha ricordato come l'istituzione da lui rappresentata cerchi continuamente il confronto con i sindaci per affrontare questo e altri problemi. E questo aiuto, questa condivisione con quei sindaci, io la sento viva non soltanto sul tema dell'immigrazione, che è fortissimo, ma anche in altre questioni che sono sul territorio, come il sindaco di Mortara lo sa, come l'ambiente, la pericolosità dell'inquinamento. Una serie di questioni che vanno anche a toccare i temi della sicurezza, per i quali io mi sono vicino e mi impegno con tutto me stesso per poter alleviare le vostre quotidiane difficoltà, che so essere tantissime. Il sindaco di Vigevano, Andrea Sala, ha invece voluto porre l'accento sui recenti dati Istat che indicano un aumento della povertà in Italia e si è scagliato contro l'Europa che invece sembrerebbe guardare solo al mondo della finanza. Io quando sento che l'unico problema dell'Europa è quello di fare un super ministro dell'economia, dove già le sovranità nazionali sono state abbastanza messe in secondo piano davanti all'Europa e adesso sembra che la centralità deve essere un super ministro dell'economia, quando hai problemi sociali, perché poi questi diventano problemi sociali, quindi di spesa per aiutare le famiglie, quindi trovare delle soluzioni. Povertà, immigrazione e ambiente sono i problemi evidenziati anche dal sindaco di Zinasco, autore quest'anno del discorso a nome dei sindaci Lomellini. L'insieme di questi e molti altri fattori portano inesorabilmente ad una crisi della partecipazione politica e alla sfiducia delle istituzioni. Tale esmerdimento potrebbe provocare la perdita dei valori e della cultura della Costituzione che si trova alla base della società. Il nostro ruolo di amministratori ci chiama ad aggirare queste incertezze, ad impegnarci costantemente per risolvere del tutto o in parte i problemi della cittadinanza. Il consigliere provinciale Emanuele Corsico Piccolini ha voluto invece dare un segnale di speranza per il territorio dato dalla formazione dei collegi della nuova legge elettorale. Che sarà quella di tornare ad eleggere un rappresentante al Parlamento in un collegio che sarà composto in larga parte dai comuni che oggi siedono qui. Nel suo discorso il prefetto faceva accenno alla questione di sicurezza, è un tema particolarmente sentito a Casteggio dove da tempo si chiede di fare qualche cosa. Se un altro per illuminare meglio la città è bene, qualche cosa, è caso di dirlo, si comincia a vedere. Illuminare le periferie per dare più sicurezza ai cittadini, che spesso avevano lamentato il problema all'amministrazione comunale. Del problema a Casteggio si parla da tempo, ma solo di recente, grazie alla messa a regime del progetto energetico da 1,4 milioni di euro avviato all'inizio dell'anno, sarà possibile intravedere la sua soluzione. Lo fa sapere il Comune, sottolineando che in cima alla lista dei desideri della cittadinanza resta sempre la sicurezza, complici anche i furti in esercizi commerciali e abitazioni private che continuano senza sosta e fanno, secondo l'indagine del sole 24 ore, della provincia di Pavia una delle più colpite in Italia in questa categoria di reati. Nel 2016 ne sono stati denunciati poco più di 3.000 in tutto, 8 al giorno. L'avvio dell'installazione dei punti luce supplementari sarà possibile, ha spiegato il Sindaco, reinvestendo i risparmi ottenuti dal primo anno di project financing del settore energetico del Comune, che secondo gli uffici starebbe mantenendo la promessa di ridurre di oltre il 50% i consumi. Ha avuto l'inizio questa primavera, sta proseguendo con successo, siamo anche abbastanza orgogliosi perché non fosse il primo project di tutta la Lombardia che sta funzionando, ha già dato dei primi risultati di alcuni risparmi energetici, che naturalmente sia sulla luce sia sul riscaldamento, e abbiamo inteso quel piccolo margine che abbiamo già incominciato a intravedere a distanza di pochi mesi, di reinvestirli per potenziare tutte quelle zone periferiche del paese e della città, che sono fatti oggetto, ahimè, in maniera abbastanza frequente da furti. Ora, venendo incontro anche alle direttive del signor prefetto, pensiamo che rendere luminose le zone periferiche sia un servizio importante per cercare di dissuadere i malintenzionati e comunque per poter facilitare l'intervento degli organi di sicurezza. Il progetto riguarda l'efficientamento energetico di 10 edifici comunali e l'installazione o la sostituzione con la tecnologia LED delle lampade troppo energivore per un totale di 1600 punti luce tra il centro storico e la periferia della cittadina. Paso a pubblicitaria, torniamo fra poco con molte altre notizie. Ancora insieme con Pavia News, a quante volte vi raccontiamo di incidenti stradali causati dai cinghiali o di danni all'agricoltura, sempre per colpa dei cinghiali. Ebbene, adesso c'è un allarme di confagricoltura, secondo cui ci sarebbe una vera e propria migrazione di ungulati dai territori confinanti. Mi ha fatto bene a collegare un po' tanti dei danni che si stanno verificando e anche la presenza di tanti animali in numero molto superiore a quello che ci si aspettava anche dal cambiamento climatico. Basti pensare solo, parlavo oggi con un sindaco della Valle Staffora che mi diceva che cinghiali da 200 kg che si sono trovati, sono stati abbattuti in questi mesi. Nella realtà ci si domanda come fanno e da dove arrivano perché il numero è talmente elevato che non può essere giustificato solo dalla loro riproduzione. Quindi si può immaginare che possono arrivare anche da tutte quelle aree che adesso sono state colpite da incendi alla ricerca naturalmente di posti più favorevoli per il loro insediamento. Quindi naturalmente il cambiamento climatico potrebbe influire su questo tipo di spostamento. Inoltre c'è da dire che soprattutto in un'annata come quella di quest'anno gli animali, in particolare gli ungulati, quindi dai cervidi ai cinghiali hanno cercato naturalmente di approvvigionarsi d'acqua ricercando liquidi nelle colture e persino quest'anno sono riscontrati anche grappoli d'uva che sono stati mangiati. Sulle piante riescono ad arrivare a prendere le ciliegie, daini, cervi eccetera abbassano, prendono i rami, li abbassano e quindi se ne cibano. Tutto questo però crea un grave problema che naturalmente è a conoscenza anche di tutte le istituzioni si sta cercando di trovare soluzioni che sono sempre più difficili però da applicare. Però questa situazione di fatto sta mettendo in pericolo l'esistenza stessa delle aziende agricole. Durante il servizio di vigilanza venatoria e antibracconaggio le guardie del WWF hanno rinvenuto un fucile doppietta nell'area collinare di Miladolo Terme era abbandonato, le guardie poi hanno allertato i carabinieri e i militari di Chignolopo hanno posto sotto il sequestro l'arma. L'attenzione delle guardie WWF era stata tratta dalla presenza presso un rudere di tre rami invischiati che presentavano numerose penne di uccelli incollate, evidentemente era appena stato utilizzato. Nelle vicinanze c'era quest'arma abbandonata. La zona è costantemente controllata dagli organi di vigilanza venatori per i frequenti casi di bracconaggio. L'anno scorso furono denunciati due cacciatori provenienti da Brescia per aver predisposto un articolato impianto di cattura con il vischio. Forse lo ricorderete, lo scorso anno a Pavia c'erano state fortissime polemiche per l'applicazione della tassa a rifiuti nei confronti dei commercianti e molti si verranno visti a raddoppiare in maniera consistente. Ebbene, adesso per quest'anno ci si è affidati invece a uno studio di Bologna che calcolerà delle tariffe che tutti sperano possano essere più eque. L'anno scorso sulla Tari era stata un'autentica guerra tra l'amministrazione comunale e i commercianti. Così quest'anno il Mezza Barba ha voluto giocare d'anticipo affidando ad uno studio bolognese il calcolo delle tariffe non domestiche ovvero di negozi, esercizi commerciali e studi professionali. 12 mesi fa la maggioranza sul tema Tari aveva rischiato seriamente una crisi di nervi poiché la Giunta aveva applicato i coefficienti frutto di uno studio di ASM portando così aumenti dell'85%. Una mannaia che si era abbattuta in particolare su fioristi e fruttivendoli ovvero le attività che producono grandi quantità di rifiuti. Si trattava della cosiddetta tariffa puntuale introdotta dalla precedente amministrazione di centrodestra ma mai applicata prima dello scorso anno. Una stangata che aveva alzato la tariffa dal 37% all'85% mandando su tutte le furie i commercianti pavesi. Quest'anno si tenterà di mettere in campo un sistema più equo che risponda al principio del chi più inquina paga. Le nuove tariffe riguarderanno le sole utenze non domestiche la predisposizione dei nuovi parametri sarà completata entro il prossimo 31 dicembre. E a Voghera invece la Tari potrebbe essere stata calcolata in maniera sbagliata secondo Federconsumatori infatti il Comune è fra quelli in Italia ad essere caduti nell'errore dell'aver considerato in maniera errata in qualche caso addirittura considerandoli per il doppio della quota i garanci e le cantine delle abitazioni. Quella tassa è sbagliata è questo senso della comunicazione diffusa nelle scorse ore da Federconsumatori riguardo all'applicazione della Tari la tassa sui rifiuti nel Comune di Voghera. Palazzo Gunele infatti tassa le pertinenze delle abitazioni cioè autorimesse, cantine, solaie e via di seguito in quanto le considera utenze non domestiche applicando quindi una quota variabile aggiuntiva diversa rispetto a quella dell'immobile ad uso abitativo. Per l'associazione si tratterebbe però di un errore perché è la locuzione utenza domestica dovrebbe comprendere sia le superfici adibite a civile abitazione le stanze della casa per capirci sia le relative pertinenze di conseguenza a queste ultime andrebbe applicata solamente la quota fissa della tariffa Tari che è stabilita dal Comune in relazione al numero degli occupanti questa errata applicazione del tributo sottolinea Federconsumatori comporta un aumento della tassazione perché la tariffa complessiva applicata è pari a 3,19 euro al metro quadro all'anno al posto di un importo corretto che va da un minimo di 66 centesimi ad un massimo di 1,08 euro al metro quadro all'anno su un garage di 20 metri quadri per esempio la differenza fra il tributo calcolato erroneamente e quello corretto può arrivare anche a 50 euro all'anno non una grande cifra ma nemmeno spiccioli lo stesso ragionamento era stato fatto nelle scorse settimane dal deputato del Movimento 5 Stelle Giuseppe Labbate anche nel suo comune nel regolamento per l'Atari era stata applicata la quota variabile a tutte le pertinenze dell'utenza domestica compresi garage e cantine un errore che sarebbe frutto di una sbagliata interpretazione della legge di primo livello come ha spiegato il sottosegretario all'economia Pierpaolo Baretta e quindi staremo a vedere come venisse confermata sarebbe appunto una questione davvero importante andiamo adesso a un riepilogo dei principali fatti della giornata Giallo San Colombano all'Ambro un uomo esce da un bed and breakfast con una ferita alla gola morirà poco dopo secondo la compagna si è suicidato ma la sua versione non convince Consiglio Comunale straordinario vigevano sul raddoppio ferroviario Corsico Piccolini del PD denuncia il doppio binario tra Mortare e Parona fu finanziato 15 anni fa ma mai realizzato Voghera sarebbe tra i comuni italiani dove si è sbagliato a calcolare l'Atari la denuncia arriva da Federconsumatori secondo cui per garage e cantine i cittadini avrebbero pagato il doppio È stato a volte al centro delle coloniche cittadine per episodi anche poco edificanti ma è soprattutto una struttura di accoglienza oggi forse un po' in crisi stiamo parlando del villaggio San Francesco di Pavia che il comune darà in gestione agli esterni, a dei privati una vicenda su cui ci sono le critiche dell'opposizione Quella del villaggio San Francesco è la solita non gestione di un problema è stato utilizzato negli ultimi anni come parcheggio di minori stranieri non accompagnati e oggi che esplode il problema il comune dice che non è più in grado di gestirlo e quindi lo dà in gestione questo al di là della scelta o meno di esternalizzare di privatizzare ma è proprio concettualmente come metodo l'abdicazione della politica e dell'amministrazione del proprio ruolo cioè quello di gestire i problemi magari prevenirli ecco in questi anni non è stato fatto nulla di tutto ciò e adesso ci troviamo in una situazione problematica che il comune per ammissione dell'assessore Moggi non è in grado di amministrare e di gestire con le proprie forze Allora è una grande delusione da parte mia perché io ho provato ad aprire il dibattito se il villaggio San Francesco è ancora una struttura idonea rispetto agli obiettivi che perseguiamo perché noi come comune dobbiamo preoccuparci delle persone che stanno male dobbiamo preoccuparci di aiutarle effettivamente e per le situazioni più estreme dobbiamo cercare di aiutare queste persone a rimettersi sui binari della vita il villaggio San Francesco è invece un parcheggio un parcheggio dove ci vanno le persone per carità vengono aiutate nei limiti delle risorse di personale che ha il comune questo parcheggio non si risolve esternalizzando i servizi alla persona con una privatizzazione di fatto della tutela della persona ma si risolve con nuove politiche di welfare inclusivo abbiamo fatto queste banali considerazioni ma non ci hanno voluto ascoltare ci hanno sbattuto la porta in faccia ci sarà un appalto di 657 mila euro in tre anni questa ulteriore spesa si poteva evitare e si poteva guardare veramente in concreto quali fossero i reali bisogni dei pavesi ricorderete certamente l'episodio di qualche settimana fa Vigevano quando un uomo si mise a sparare alle auto in sosta nei pressi della scuola Ibesozi erano le sette e mezza di mattina quando il soggetto, un trentenne vigevanese dopo aver ordinato una grappa al bar si mise a esplodere colpi che fortunatamente colpirono soltanto delle vetture parcheggiate proprio mentre i ragazzi stavano affluendo verso la scuola all'arrivo dei carabinieri poi l'uomo non esitò a puntare l'arma anche contro di loro solo la prontezza di spirito dei militari riuscì a evitare che qualcuno rimanesse ferito ebbene, è arrivata per quest'uomo una condanna a tre anni di reclusione abbinata a una multa di 4.000 euro un trentenne ha confermato di aver agito sotto l'impeto della rabbia susseguente a un litigio con la moglie Torniamo a Vughiera per una questione che sta contrapponendo maggioranza e opposizione cioè la trasmissione in diretta su internet del Consiglio Comunale Trasmissione in diretta via web del Consiglio Comunale ancora un forse da parte dell'amministrazione di Vughiera la faccenda delle riprese video in municipio è tornata recentemente di attualità dopo che nel corso dell'ultima seduta il Movimento 5 Stelle ha presentato una nuova mozione sottoscritta anche dal Partito Democratico per chiedere la messa in onda dei consigli comunali la richiesta è stata però bocciata dalla maggioranza perché sarebbe in corso la revisione del regolamento del Comune all'interno del quale dovranno essere inserite anche le modalità per l'attivazione di questo servizio cosa che però potrebbe richiedere diversi mesi la richiesta non è affatto nuova fu presentata infatti per la prima volta nella 2010 ma in quel caso non se ne fece nulla perché i consigli erano già diffusi a livello radiofonico almeno fino a mezzanotte da Radio Vughiera col venir meno di quel servizio due anni fa l'opposizione era tornata a chiederne l'attivazione ma anche in quel caso non se ne fece nulla poi il commissariamento e le nuove elezioni finché nei giorni scorsi la questione è stata ripresentata mi pare che la volontà sia quella di attendere il nuovo regolamento del Consiglio Comunale e quindi introdurre all'interno di quel regolamento eventualmente le riprese video cosa che io non è che ritengo così indispensabile e così essenziale perché comunque i consigli comunali sono pubblici e chi vuole prenderne parte chi vuole prenderne visione può tranquillamente farlo sicuramente avevamo prima un servizio con Radio Vughiera con il buon Ginorsi che era un servizio apprezzato quel servizio non è stato sostituito non per la volontà del Comune ma insomma non è stato sostituito quindi si potrebbero trovare anche sistemi e metodi magari più moderni meno costosi che non è escluso che si abbia, che non si adottino secondo la rappresentante in Consiglio dei 5 Stelle Caterina Grimaldi però l'amministrazione pur non dichiarandosi apertamente contraria continua a tergiversare portando argomenti diversi che evidenziano la mancanza di volontà di attivare un servizio dovuto alla cittadinanza che sarebbe molto apprezzato in particolare da chi non può recarsi fisicamente in municipio per seguire le assemblee Sono sette anni che noi attendiamo una risposta positiva da parte dell'amministrazione comunale le risposte sono state diverse la prima è stata che lo streaming implicava dei costi troppo alti con 2000 euro in realtà un computer e un tablet si fa tutto questa volta ci sarebbe in corso perché la terra è già iniziata nel 2015 la revisione, l'aggiornamento del regolamento di funzionamento del Consiglio Comunale e quindi questa è una minima scusa perché da quello che si è capito parlano addirittura ci vorranno 18 mesi è vero se una voglia viene ma c'è impossibilità quindi non ha impossibilità però dal punto di vista della pubblica amministrazione vi è anche un obbligo di legge che è legato alla digitalizzazione della pubblica amministrazione poi comunque c'era il discorso che lo streaming permette sia la visione contemporanea ma anche la visione indifferita un breve break pubblicitario poi ci ritroveremo ancora con Pavia News Bentornati a Pavia News si replica anche quest'anno la lodevole iniziativa a Pavia di raccolta di doni per le famiglie meno abbienti allora con questa seconda edizione noi vogliamo rinnovare un'iniziativa che ha un significato ha il significato di dare voce ad un problema che secondo me è il problema principale della nostra società che è la povertà la povertà è un fatto estremamente negativo non solo dal punto di vista individuale ma anche dal punto di vista sociale lo scorso anno la raccolta aveva permesso di donare 450 giocattoli ai bimbi di famiglie in difficoltà ma anche vestiti beni di prima necessità e l'iscrizione a corsi di diverse associazioni sportive e visto il successo della passata edizione torna anche per quest'anno l'iniziativa un gioco per ogni bambino lanciata dal gruppo informale degli amici che credono nel Natale tutto l'anno con la supervisione dell'avvocato pavese Maurizio Niutta cresce il numero di privati cittadini che promuovono l'iniziativa anche per il 2017 si punta a raccogliere regali e donazioni per permettere ai bimbi più sfortunati di passare un Natale felice il punto di raccolta è come sempre il bar Gorizia di Viale Gorizia a Pavia l'anno scorso ma anche quest'anno non si è trattato solo di giocattoli si è trattato anche di altre questioni abbiamo consegnato vestiti abbiamo consegnato anche generi alimentari abbiamo consegnato anche la possibilità per qualcuno che ci ha indicato delle situazioni particolari di poter frequentare delle palestre delle strutture sportive a titolo gratuito ecco questo sta un po' il significato di questa iniziativa che abbiamo visto con piacere che altri stanno riprendendo perché chiaramente non possiamo certamente coprire grandi porzioni di territorio però il significato sta proprio in questo far capire a tutti che siamo parte di una società che nessuno si deve sentire escluso che nessuno deve rimanere indietro almeno per quanto concerne quelli che sono i diritti fondamentali secondo significato che abbiamo voluto dare come l'anno scorso coloro i quali volessero acquistare giochi perché chiaramente si parla di giochi nuovi o comunque in ottimo stato non si parla di altro noi invitiamo ad acquistare nei negozi di Pavia o della provincia di Pavia perché crediamo anche che si debba dare significato a questa solidarietà territoriale l'ospite di questa sera è Paolo Luise buonasera buonasera grazie per avermi invitato presso la vostra struttura è il presidente di un poche cosa che è appena nato e cioè la consulta sociale del comune di San Nazaro del comune di San Nazaro sì in realtà non è appena nata in base alla appena rinnovata in base a quanto previsto dallo statuto comunale del comune appunto di San Nazaro è istituita ormai da anni la consulta sociale di fatto che cos'è? è l'organismo d'incontro fra l'amministrazione e le associazioni che sono presenti sul nostro territorio quindi ha come dire una funzione di collegamento e viene come giustamente sottolineava lei rinnovata ogni qualvolta si arriva a elezioni quindi poi viene eletta la nuova amministrazione ecco che obiettivi vi siete posti per questo per questo mandato? la consulta sociale dicevamo prima è l'organismo di incontro fra le associazioni fra gli enti senza fine di lucro fra la scuola sono praticamente quei canali che vengono molto spesso sfruttati perché promuovono senza nessun secondo fine che non sia proprio l'aiuto alle persone delle iniziative finalizzate al soddisfacimento dei bisogni sociali della realtà nella quale loro operano la consulta sociale ha proprio nella figura del presidente quella di esplettare un collegamento fra quello che è l'amministrazione per quello che può essere poi l'aiuto che viene fornito e le varie associazioni San Nazaro sotto questo aspetto ha una grande fortuna a San Nazaro ci sono circa 35 associazioni di volontariato quindi si parla di un grosso numero di persone si fa la proporzione con il numero di abitanti che sono attorno ai 5.000 esatto centinaia di persone che a me piace sottolineare mettono a disposizione il loro tempo quotidianamente le loro capacità professionali senza nessun secondo fine che non sia appunto l'aiuto a chi purtroppo per motivi di qualsivoglia natura è rimasto indietro tra l'altro fra le varie cose che ponete in animo di facilitare anche magari la partecipazione a dei bandi per avere dei finanziamenti che è una cosa importante il collegamento che intende portare avanti l'amministrazione comunale attraverso appunto la consulta e le associazioni è proprio questo negli ultimi anni si è si vede sempre di più la difficoltà nell'ottenere dei finanziamenti che possono dare vita a dei progetti come dicevamo prima a finalità sociale allora l'interesse della consulta è anche quello di porsi al fianco delle varie associazioni che ci sono sul nostro territorio per permettere loro di studiare quali strade percorrere per far sì che si possa ottenere attraverso dei bandi regionali dei finanziamenti ecco i progetti che di volta in volta vengono analizzati sono spesso progetti che daranno i loro frutti non nell'immediato perché purtroppo le difficoltà a livello sociale non possono essere risolte dalla sera alla mattina e quindi poter contare su dei canali che aiutano ad ottenere dei finanziamenti può essere ovviamente una strada meritevole di considerazione nel vostro programma mi sono anche appuntato questo aspetto oltre a quello che ci si può immaginare da una consulta per il sociale cioè sostiene le fasce più deboli possono essere gli anziani piuttosto che ad altre questioni vi ponete però anche su temi come ambiente sanità prevenzione sananzaro è una realtà abbastanza particolare nel senso che potendo contare su dei poli tecnologici che ovviamente hanno dato grande benessere nell'arco degli anni al nostro territorio però presentano anche delle problematiche uno di questi è appunto lo studio che si intende portare avanti sulla salute delle persone dei residenti che vivono nel territorio non ultimo purtroppo sananzaro nelle immediate vicinanze perché siamo sul territorio di ferrero buonione però sta per nascere questa discarica di cemento mianto che qualche preoccupazione per non essere cattivi insomma la sta dando ecco il nostro intento è anche quello di percorrere queste strade per cercare di insegnare fra virgolette ai cittadini che cosa porta questa determinata realtà produttiva perfetto grazie allora grazie a voi per avermi invitato grazie di cuore e alla prossima adesso invece parliamo di una buona notizia perché forse ve lo ricorderete qualche tempo fa vi abbiamo raccontato la storia di un medico oltre padano che curava gli addetti del circo un po' di tutta Italia che appunto essendo nomadi per definizione avevano in lui un punto di riferimento lo faceva da volontario adesso invece la cosa si è istituzionalizzata con un protocollo tra l'ente circhi e la SST di Pavia un'iniziativa senza precedenti come quasi senza precedenti la passione per il mondo del circo che anima l'attività della dottora Gian Sisto Garavelli medico del servizio dipendenze ex CERT all'ospedale di Voghera che da qualche anno ha iniziato a prendersi cura a titolo personale gratuito della salute dei circensi il protocollo d'intesa appena siglato tra la SST di Pavia e l'ente nazionale circhi prende avvio proprio da qui ma ora diventa il primo accordo istituzionale tra un'azienda sanitaria e l'associazione di categoria dello spettacolo più antico del mondo grazie a questa collaborazione l'ente circhi si impegna a diffondere la cultura della salute avvalendosi delle strutture dell'azienda pubblica pavese l'obiettivo recita il testo della convenzione è quello di garantire l'accoglienza e alleviare i disagi dei circensi lo stile di vita nomade necessita infatti di avere a disposizione una rete di esperti che possa essere di supporto all'attività degli operatori il presidente dell'ente circhi Antonio Buccioni ha espresso grande soddisfazione per l'ufficializzazione dell'accordo sottolineando inoltre che il protocollo metterà in comunicazione virtuosa del mondo del circo con una eccellenza in ambito sanitario quale la SST di Pavia credo che il circo italiano ha dichiarato debba essere grato a persone come Garavelli ed Equip come quella dell'azienda sanitaria territoriale della provincia di Pavia che con tanta esperienza e scrupolo professionale dispensano alla categoria un'attenzione tanto più incommiabile perché interviene per migliorare la qualità della vita dei lavoratori La Florence ha ritrovato punti ed entusiasmo dopo la brutta sconfitta casalinga contro Palau Infanti la vittoria per 3-0 tenuta in trasferta contro il Parella Torino ha riportato le Tigri nelle posizioni alte della classifica una partita che nascondeva parecchie insidie le avversarie nonostante si trovino appena sopra la zona retrocessione in casa loro sono infatti sempre molto temibili La partita è stata abbastanza combattuta nonostante fosse una squadra un pochino bassa in classifica ma come sempre questo campionato è equilibrato e anche le squadre che magari sono un po' più giovani un po' inesperte alla fine fanno vedere il loro valore non è stata una partita facile perché comunque in casa loro non è facilissimo giocare è una palestra un po' piccolina cioè loro sono aggressive quindi comunque non è facile facile e niente il primo set è stato combattuto e loro hanno difeso bene attaccato bene e noi siamo comunque riusciti a conquistarci il primo set poi il secondo e il terzo sono stati un pochino meno combattuti secondo me comunque perché noi siamo riusciti a esprimere il nostro gioco Il calendario offre una buona opportunità la partita in programma sabato al Paolo Bonomi con inizio alle ore 18 vedrà le Ducani impegnate contro Acquiterme attualmente in decima posizione in classifica l'obiettivo è naturalmente quello di chiudere il match in fretta e portare a casa i tre punti Allora Acquiterme non sono in posizione avanzata nella classifica sono metà classifica medio-bassa nonostante la posizione però è una squadra rognosa dobbiamo fare attenzione perché è una squadra che sicuramente non molla mai non si arrende facilmente e noi dobbiamo fare della nostra difesa e attacco il punto di forza Il campionato continua a essere entusiasmante la favorita settimo torinese è sempre al comando ma la Florence quarta in classifica è a soli tre punti di distacco Adesso ci troviamo a tre punti dalla prima in classifica quindi è d'obbligo vincere sabato vincere con i tre punti e quindi aspettiamo tanto tifo per farcela qualche secondo per parlarvi dell'appuntamento di questa sera con il nostro talk show parole in piazza perché si parlerà di infrastrutture per il territorio si parlerà della superstrada Vigevano Malpensa e dell'autostrada Broni Mortara temi che sono davvero di grandissima attualità soprattutto in questi giorni quindi appuntamento a partire dalle ore 21 e 10 per il momento io vi saluto arrivederci